benvenuti qua sono noi ok siamo qui una nuova challenge se canti o balli o perdi inizia Francesco e poi sempre chiamiamo Francesco Francesco questa canzone è la canzone un altro giorno io ti do il buongiorno un altro giorno che stare insieme capire che vai bisogno per vederti mangiare bene con noi io ti do il buongiorno ah l'hai cantata no no l'ho detto dai c'è lo che io stai ahhh ahhh io ti do il Francesco e Davide Claudio ahhh claudia claudia Francesco ha fatto la prima muoviti Francesco dai 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 ti docca ahhh 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 Stefano 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 dai 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 vai avanti Francesco ritornello non c'è guarda gira ahhh no ci sono non ci parano non ci fai non ci fai non ci fai non ci fai Balla dai Fabio ce l'ha fatta Fabio non ci credevo che ce l'hanno Fabio basta, basta Fabio è finito, Fabio è finito C'è qua? Andrzej si odisi? Andrzej è qua? Andrzej? Andrzej? C'è qua? Yeah Io ho detto go away tales Out of the us Ok l'hai fatto La mia canzone preferita Quale? Vai avanti Prendi che vuole guardare Dai, prendi qui La canzone è questa Pronto? No, non sono... sono...